Il cantiere tedesco Deler 32 è l'ultimo progetto del cantiere tedesco ed è un progetto piuttosto interessante anche e soprattutto per il fatto di essere un natante, 9 metri e 98. Una tante che però, lo vedremo poi negli interni, presenta tutti gli spazi necessari e utili per fare una crociera nel comfort. Una barca che ha qualche novità anche qui in coperta, lo vediamo in pozzetto. Abbiamo la randa che viene controllata alle spalle del timoniere, un lungo trasto per la regolazione del carrello della randa e due winch sui paramare per il controllo del fiocco. È una barca che è stata progettata dalla duo Judy Lev Roilek. Altra particolarità è che il Deler 32 può essere scelto con il timone a barra, come in questo caso, o a ruota. Crediamo che questa soluzione, quella della barra, sia la più indicata per una barca di queste dimensioni. Per lo stivaggio in pozzetto abbiamo a disposizione questo gavone, molto profondo e sufficientemente capiente. Tutte le manovre sono naturalmente rinviate in pozzetto, anche la scotta di randa viene governata qui sul winch di sinistra. Un pozzetto che permette di accedere agli interni attraverso questa tagliola, molto comoda da aprire e chiudere. Ed eccoci dunque all'interno del Deler 32. Dicevamo una tante con qualche ambizione da barca più grande. Effettivamente, guardate qui, il quadrato è abbastanza spazioso. Sicuramente può apparire come il quadrato di una barca leggermente più grande. Il layout proposto dal cantiere prevede una cabina a prua classica e una cabina a poppa. Classica, dicevamo, come classica è la disposizione degli ambienti con un tavolo adante abbattibile al centro. Qui abbiamo l'albero passante, due divani contrapposti. L'angolo cucina è dignitoso, più che dignitoso. Sicuramente commisurato alle dimensioni della barca con una cucina a due fuochi, un lavello e un frigorifero. Interessante invece, soprattutto per le sue dimensioni, il bagno che troviamo sulla dritta di fronte a un tavolo da carteggio di dimensioni discrete.